Molte delle tracce biologiche raccolte e repertate dalla polizia scientifica nell'appartamento di Via della Robbia sarebbero riconducibili unicamente alla vittima. Continua senza sosta ad una settimana dal ritrovamento del corpo la caccia all'assassino di Maria Venasio de Sousa, la sessantenne brasiliana massacrata all'interno dell'appartamento dove viveva ed incontrava i clienti. Ieri la procura di Arezzo ha affidato l'incarico al genetista Ugo Ricci. L'esperto dovrà analizzare le tracce biologiche, soprattutto reperti ematici prelevati sul cadavere della donna e nell'appartamento di Via della Robbia dove Maria lo scorso lunedì è stata ritrovata, riversa sul letto, uccisa con tre colpi alla testa, inferti con un oggetto contundente ancora non identificato e con un laccio stretto alla gola. Il materiale sarà analizzato all'ospedale di Careggi. Gran parte delle tracce, in particolar modo il sangue, apparterebbero comunque alla vittima, anche se tra queste potrebbero essercene anche riconducibili all'assassino. A quel punto il DNA isolato dovrà essere confrontato con quello dei tanti contatti presenti nelle rubriche della sessantenne. Prosegue infatti anche il setaccio dei tabulati telefonici dei cellulari della donna, quattro quelli sequestrati dagli inquirenti. I uomini della squadra mobile stanno analizzando gli apparecchi e numeri memorizzati in memoria. Molte le persone che sono già state sentite dagli inquirenti, familiari, amici e clienti. Al momento non sembra però essere emerso alcun profilo sospetto, nessun nome sarebbe infatti scritto nel registro degli indagati. Insomma, un giallo ancora tutto da chiarire.